A tre anni di distanza dal concert presentato a Ginevra, Alfa Romeo Tonale debutta su strada a Como, partendo da un luogo simbolico, il Tempio Voltiano, dove 200 anni fa Alessandro Volta inventò la pila, una scelta che vuole rimarcare la metamorfosi del brand che con Tonale entra nel mondo dell'elettrificazione e alza il livello tecnologico e qualitativo, rivendicando l'appartenenza al segmento premium. Tonale è diversa da tutte le altre Alfa, ha detto il numero uno del brand imparato, per sottolineare il lavoro fatto sul sistema software e sulla qualità del SUV prodotto nello stabilimento high-tech di Pomigliano. Tonale apre una strada verso CO2 a 0 nel 2027 e riduciamo dal 40% il livello di CO2 di questa macchina adesso, quindi siamo a un livello di prestazione, di performance premium, veramente. Il design della Tonale è molto simile al concept di Ginevra e riprende alcuni stilemi alfa come i tripli fari LED e il trilobo centrale. All'interno si vedono i risultati del lavoro sulla qualità, i materiali e le finiture sono di livello e molto curati, l'abitacolo è ben insonorizzato e l'infotainment su base Android è di facile utilizzo, con schermo touch centrale, compatibile anche con Apple e cruscotto a cannocchiale, digitale e configurabile. La connettività è 4G con Alexa che fornisce dati in tempo reale sulla vettura. Tonale nasce sulla piattaforma di Jeep Compass e proposta in tre versioni, tutte ibride, mild, plug-in e diesel e porta in dota al gruppo il nuovo motore 1.5 ibrido con turbina a geometria variabile a ciclo Miller per migliorare prestazioni e consumi. Il motore da 130 a 160 CV è abbinato a un'unità elettrica integrata nella trasmissione a doppia frizione a 7 rapporti con recupero di energia infrenata che permette di partire, posteggiare e veleggiare in elettrico. La versione da 160 CV offre un buon bilanciamento fra prestazioni e consumi, anche se manca un po' quella reattività nella risposta tipica del brand. Nella dinamica di guida si apprezzano la distribuzione dei pesi, le sospensioni anteriori e posteriori McPherson con tecnologia FSD a smorzamento selettivo o a controllo elettronico, lo sterzo preciso e il cambio fluido e sufficientemente rapido con paddolo al volante. Molto buona la risposta dei freni Brembo con tecnologia ABS che ottimizza la frenata rigenerativa. Alla versione mild hybrid seguirà la diesel ibrida da 130 CV mentre a ottobre ci sarà la presentazione del plug-in hybrid da 275 CV che promette di regalare performance di livello superiore. Due gli allestimenti super e sprint con i pacchetti optional veloce ETI per semplificare l'acquisto online. I prezzi di vendita partono da 35.500 euro per la versione ibrida da 130 CV fino ai 44.800 della 160 CV in allestimento veloce mentre le versioni di lancio speciale con diversi optional sono offerte rispettivamente a 39.000 e 41.000 euro.